Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi mostrerò la posizione di tutte le monete blu della settimana 7 per la stagione 3 di Fortnite capitolo 2. La prima moneta si trova qui, al castello di sabbie sudate, praticamente lo stesso luogo dove vi ho mostrato le monete verdi. Ma questa volta, se la moneta verde è all'esterno delle mura, la moneta blu è sempre all'esterno delle mura ma dovete, come sempre, distruggere un oggetto. Questo oggetto, per la precisione, quindi distruggete questo oggetto all'esterno del castello, come potete vedere emana un bagliore blu, per ottenere la prima moneta blu. La seconda moneta blu si trova praticamente qui, vedete? Tra moli molesti e la fattoria frenetica allo scasso, per farvi capire meglio. Ora non ricordo bene il nome di questa località, io la chiamo lo scasso. Tutto quello che dovete fare, appena atterro ovviamente, per prendere la moneta è distruggere questa gru, credo che sia una gru, e otterrete la seconda moneta. Appena atterro vi mostro ovviamente la moneta in questione. Quindi, atterriamo qui, e distruggiamo questa sorta di gru. Quindi, come vedete, c'è il bagliore blu, non potete sbagliarvi, et voilà! Questa è la seconda moneta blu. La terza moneta blu si trova praticamente nei pressi del faro, in alto qui. Non potete sbagliarvi. Si trova, per la precisione, alla base del faro, dove c'è questa imbarcazione da distruggere, che adesso vi mostro. Ovviamente, come sempre, avvicinandovi all'oggetto, questi emanerà un bagliore blu, e quindi capirete che si cela la moneta blu. Quindi, distruggete questa imbarcazione, et voilà! Avete la terza moneta blu. La quarta moneta blu si trova a Foschi Fumaioli. Dovete distruggere praticamente questo oggetto. Vi mostro adesso l'esatta posizione, appena prendo la moneta. Ecco qua, Foschi Fumaioli, vedete, qui. E questa era la quarta moneta blu. Questa è una quarta vancina.